questa che vado a raccontarvi è la vera storia di luigi delle picocche eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà e immensa gratitudine piacere di essere giudici delle picocche sotto al sole faccio il muratore e mi spacco le nocchie dal giovane il mio vino era l'attore Denis Hopper che non si ride girava il morno a bordo dello shopping e invece io passo una notte in un bar dei carocchi se poi mi trovi lì tentato dai videopoker ma il conto mio langue quella macchina che succhia il sangue i mortacci suoi io non ci casco è un soggetto perfetto per nostre odio ma tu che cazzo ne sai della vita dell'operario io stringo le chiappe sulle spese goodbye ma c'è lei non ho salvato lei ha capito da scelto dei dubai a me mi vorrebbe delle forme tutto per l'otto per mille per la straia ha capito io so il pane degli usurai ma li mi respingo non faccio mica il pacino non faccio pacinco non gratto non vinco non trinco non trinco ne risale e vinco mi fanno schifo capito ma io mi convinco ogni giorno che sono eroe sì perché lotto tutte le ore lotto tutte le sere ha capito sono un eroe perché combatto per la pensione di merda capito e che cazzo ne sai tu se fossi un ss di 90 anni lavorerei nello studio d'avvocato te lo dico io e invece torno a casa distrutto come la merda con la bocca impastata come la carcestruzza in una bedoniera eh e sul verde fa dal bianco e il conto è rosso quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera ma su va bene in galera quanti precari quanti mafiosi sono passati a mal affari con la politica eh ah lo sai eh quando t'affarmi le fai le vici vani senti che mi sa voglia scampi i domiciliari ha capito e finisci i mani nei strozzini e vado a cercare a mangiare mezzo di cestini della monnessa a porta ha capito ma io non so mica l'omoragno non so mica rodi in sarampo ha capito comunque farebbero ciò che faccio per io che faccio per i bambini per faccio la mia famiglia perché sono eroe perché perché plotto tutte le ore ma capito sono eroe perché sopravviva il messiere sono un eroe straordinario tutte le sere sono un eroe e devo faccio vedere ha capito per far denaro ci sono tanti modi potrei darmi anche alle frodi no e portami i soldi mi fotti i soldi dei morti come il panchiere dei loti e c'è chi ha ammollato il conservatore a parte di questo per il montecitorio capito di pianisti e beh sono pagati da andrea in brondino io vado avanti e mi pusco pure la pelle sto impazzire come dentro un col set vivo nella camera 237 e non me ne prega niente oh io mi sono rotto le palla capito io sono luigi spieghiamolo cicci al bullo chi può parlare con me che ha cibo nel cortello se ho conosciuto ogni coppista era da morti a te ma l'isola lì l'ho fatto hanno fissato il giro e ognuno vado a rispettare sennò mi ricicchietto bellurio la getta da prima perché ce ne ho mangiati tanti all'ospedale che tanti non si sa e state bene guardi a tutti avete capito chi so io attenti eh che io faccio scoppiare la guerra civile qua capito allora non state tutti attenti sa portiacci i vostri